fratelli juventini sono le juventine benvenuti alle pagelle di juventus udinese finalmente delle belle pagelle soltanto tre insufficienze vedrete e per il resto dei bei voti perché ovviamente la juventus mi è piaciuta molto e molti giocatori hanno giocato sopra le righe questa è una juventus che mi fa ben sperare e mi auguro che già con il milan fra pochi giorni rivedremo una juventus che ha voglia di vincere voglia di giocare e ha voglia di imporre il gioco allora partiamo con scesni partita diciamo senza né arte né parte gli volevo dare sv però siccome ha fatto un paio di parate interessanti e ha provato a parare sull'errore diciamo del cross che si è fatto uccellare fra botta gli do 6 però non posso dargli insufficienza perché è una partita dove praticamente ha fatto una pennichella non è stato mai impegnato buonucci l'ho detto prima anche nell'analisi non mi è piaciuto per niente commette troppi errori è svagato continua con quei suoi lanci assurdi che non hanno senso per cui 5 delit e danilo gli do in coppia 7 ragazzi la dd come la chiamo io è veramente impressionante quest'anno delit si sapeva che era un grandissimo giocatore ma danilo stiamo scoprendo che è un giocatore che è una certezza continua ad essere sempre uno dei migliori in campo quindi due bei 7 a delit e danilo e non glieli toglie nessuno mckenny 6 e mezzo avrei voluto vederlo in campo fino alla fine però evidentemente pier lo si è accorto che era stanco perché dopo aver fatto un primo tempo suntuoso i primi 20 minuti del secondo tempo fantastici che sarebbero valsi sicuramente un 7 ha incominciato a fare qualche piccolo errore forse dovuto alla stanchezza comunque 6 e mezzo non glielo toglie nessuno avete visto che sono arrivati i mezzi come mi avete sempre chiesto betancourt lo so che non ci crederete 7 un primo tempo così così da sufficienza politica ma poi nel secondo tempo è salito agli scudi ha fatto dei bellissimi inserimenti ha fatto degli assist ha giocato in maniera intelligente ha smesso di fare dei passaggi all'indietro stile sandro e in orizzontale ha verticalizzato insomma cercato di gioco e quando betancourt gioca così io non posso che premiarlo quindi ribadisco 7 sandro 5 di incoraggiamento perché io faccio fatica a dare più di 4 sandro faccio molta fatica perché per me è l'anticalcio però gli voglio dare 5 perché avendo promosso la squadra l'avendo promosso l'allenatore voglio diciamo non dare un voto troppo basso a nessuno della squadra 5 chiesa 8 a mio modo di vedere lui insieme a un altro che poi vedrete dopo è stato il migliore in campo era su tutti i palloni lottava correva oltre alla quantità mette anche la qualità tira c'entra sempre lo specchio della porta e nella juventus quest'anno è una novità perché ripeto signori se scudiamo ronaldo gli altri tirano tutti fuori o si fanno parare con dei tiri telefonati quindi un merito 8 a un giocatore che mi sta piacendo partita dopo partita sempre di più bravo chiesa che sei venuto la juventus ram 6 7 e mezzo ecco ram 6 sta bene io non l'ho mai negato se ram 6 sta bene signori è un signore del centrocampo lord of midfield dicono in inghilterra sicuramente deve rimanere deve essere tutelato deve essere protetto come il panda gigante lo ho detto più di una volta io spero che il fatto che pierlo lo abbia tolto lo abbia tolto per fargli preservare fiato per fargli preservare perché è fondamentale che ci sia a san siro come fondamentale che ci sia come kenny e altri giocatori quindi sette e mezzo al buon ram 6 di bala 6 sono sincero di bala questa sera ha girato a vuoto non mi è dispiaciuto ma ha girato a vuoto e si vedeva che aveva voglia che si impegnava ma purtroppo non era mai ficcante teneva sempre il pallone un po troppo glielo portavano via ha perso moltissimi palloni fortunatamente il centrocampo ha fatto scudo quindi ha protetto le ripartenze dell'udinese però poi alla fine sono contento perché ha fatto un gol quindi un 6 a di bala questa sera non glielo toglie nessuno cr7 8 ovviamente cr7 io non gli posso dare di più perché se gli do di più dicono che io ho un debole per lui allora mi auto mi auto diciamo censuro questa sera no non essendoci il fantaotto sono sicuro che nessuno mi criticherà io gli avrei voluto dare di più perché signori gli hanno due palloni fa due gol gli hanno tre palloni fa tre gol diciamo che come diceva il buono renato zero vecchio diranno che sei vecchio vecchio sì ma segni sempre tu grande cr7 grande 8 abbiamo il nostro artur che prende un 6 è entrato in campo troppo tardi ormai la partita aveva già volta al termine però non ha sbagliato un pallone non gli hanno portato via neanche un pallone ha sempre cercato di proporre sul 3 a 0 non posso dargli meno di 6 ci mancherebbe altro culuseschi bernardeschi e chiellini sv perché sono entrati molto tardi sono entrati a partita già conclusa la partita ormai era un tic tac sterile per tenere il possesso per non far ripartire l'udinese che quando appunto e quindi sv quindi anche quando è ripartita grazie a fra botta che si becca il terzo 5 della rosa 5 fra botta si è fatto saltare perché quando tu hai un giocatore che scena sulla faccia tu non devi farti ingannare la finta lo devi seguire e osservarlo lui ha fatto le classiche roga da ragazzino che non ha esperienza e che a mio modo di vedere non ha neanche qualità e quindi 5 pirlo 8 8 perché sinceramente signori questa sera pirlo ha messo in campo una juventus volitiva una juventus cazzuta come io ho chiesto nel pre partita come chiunque di noi juventini la volevamo vedere ed è di buon auspicio perché come si dice chi ben comincia è già metà dell'opera ora signori testa a milan juventus perché è una partita importantissima a noi ci potrebbe anche andare bene il pareggio ma importante che l'inter non vinca perché se poi l'inter vince noi continuiamo a perdere punti sull'inter è vero che non ne perdiamo più sul milan ma ricordo che a tot oggi con il recupero di juve napoli ancora da effettuare abbiamo 10 punti di distacco dal milan e sono veramente tanti quindi signori buona serata a tutti spero che le pagelle vi siano piaciute avete visto che io non ho preclusioni stasera ho dato un 7 a betancur e quindi voglio dire penso di mettere onestà intellettuale nelle mie pagelle se sandro dovesse fare delle cose clamorose o fare delle grandissime giornate partite non temete che sono disposto a dargli anche 8 però purtroppo sandro continua a darmi ragione e non mi sembra un giocatore adatto a giocare la juventus quindi spero che la juventus a giugno perché a marzo non arriverà e scusate gennaio non arriverà a giugno prenda un terzino sinistro di qualità perché francamente sandro credo che abbia fatto il suo tempo fino alla fine forza juve forever endeavor uber alles buonanotte a tutti ci vediamo domani con il calcio mercato tg dove ci sono due notizie su cose non perdetevele ciao 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 Grazie a tutti.